Distribuzione delle risorse economiche, il sindaco di Fano Massimo Seri torna a puntare il dito contro il sistema che avvantaggia le città capoluogo. A Pantano un quartiere di Pesaro, cappannoni abbandonati e in stato di derrado, attenzioni al rischio amianto. 38 anni al lavoro per Confcommercio, Marche Nord, il direttore Amerigo Varotti, nominato commendatore al merito della Repubblica Italiana. I 100 anni della musica arabita saranno festeggiati con due giornate di musica e di comicità Sassogna di Fano, l'evento organizzato dall'ente Carnevalesca e Porto Futuro. Musei e monumenti aperti in occasione di InGir per Fan, ecco il percorso dedicato con più tappe per ammirare le bellezze della città, quest'anno anche le visite guidate al Chiostro di Sant'Agostino. 117 anni di storia a rischio, l'allarme è lanciato dal mister dell'alma Juventus Fano che ha incontrato il sindaco Seri e poi i giornalisti per fare il punto della situazione sulla società. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Era veramente arrabbiato il sindaco di Fano Massimo Seri nell'apprendere l'ennesimo episodio di discriminazione tra città capoluogo e città non capoluogo che vede Fano penalizzata in fatto di risorse. Questa mattina il primo cittadino ha tirato in ballo la responsabilità dei parlamentari locali, degli assessori e dei consiglieri regionali affinché la città di Fano trovi la giusta considerazione al di là del suo ruolo amministrativo. Sentiamo l'intervista realizzata da Massimo Foghetti. La questione di giustizia e di equità è di pari opportunità perché chi amministra, chi ha una responsabilità istituzionale ovviamente deve dare delle risposte. Le risposte non si danno attraverso le sigle ma si danno attraverso i bisogni. E allora le distrizioni delle città si fanno in base agli abitanti, in base all'estensione dei territori, in base ai disagi e alle esigenze che ci sono. C'era Don Milani che diceva non c'è peggior cosa di distribuire in parti uguali tra diversi. E qui è la stessa cosa. Purtroppo sia a livello nazionale che anche a livello regionale spesso si usa una semplificazione riservando bandi e opportunità alle città capoluogo. Allora esiste purtroppo tutta una serie di situazioni di città, vedete lo specifico Fano, terza città delle Marche, non è città capoluogo e si trova spesso e volentieri esclusa da opportunità da finanziamenti oppure ridotti. Oggi mi sono arrabbiato per un'altra situazione che è quella dei progetti IT che è una buona cosa e qui devo dire la regione ha scelto anche un percorso, quello di non andare a gara ma di andare a continuità, però ha fatto una scelta di riservare cinque progetti per le cinque città capoluogo. Nello specifico Pesaro inserendo anche Fano perché per nostro merito in passato, eravamo stati esclusi anche in passato, altrimenti si siamo reinseriti attraverso un emendamento del Consiglio regionale Pesaro-Fano e quindi ha avuto continuità. Non è una questione tra Pesaro e Fano perché qui veniamo penalizzati in questo caso entrambi. Allora bisogna tener conto anche in questa probabilità dei bisogni dei territori. Fano-Pesaro insieme fanno quasi oltre 160 mila abitanti, se pensate che ci sono alcune città capoluogo che hanno la metà degli abitanti di Fano non possono avere tutte le stesse risorse. Il rischio è che poi ci tocca litigare tra Fano e Pesaro per spartirci una fetta di pane. Allora c'è un'esigenza, quella di guardare i territori, le risorse che occorrono e un territorio più ampio con più agitanti deve avere di più rispetto ad un altro. Poi c'è il tema solito che ora di superarlo è quello che le scelte non devono essere fatte esclusivamente per le città capoluogo come criterio, perché la città capoluogo se ragionasse su un progetto territoriale ha un senso e quello che facciano le province che oggi purtroppo non ci sono più e vanno recuperate. Le città capoluogo partecipano come propria città, per i propri interessi giustamente, ma ci sono altre città e come Fano, ma ce ne sono altre in altre regioni, purtroppo siamo numericamente poche senza rappresentanza. Quindi da qui un appello anche ai parlamentari, ai nostri consiglieri regionali. Se ci siete battete un colpo e cerchiamo di fare cose giuste, non privilegi, giuste in base ai bisogni. Passiamo alla cronaca. Un 35enne residente a Pesaro è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'operazione di polizia eseguita ieri ha visto la collaborazione della squadra mobile della questura di Pesaro, Urbino e del commissariato di Fano. L'attività è partita da un controllo effettuato dagli operatori nella casa di un rumeno indagato per il reato di ricettazione. La perquisizione ha dato esito negativo sull'oggetto ricercato, una bici elettrica a provento di furto, ma ha permesso di rinvenire e sequestrare 90 grammi di hashish, di cui parte già divisa in dosi, nonché un bilancino elettrico e materiale per il confezionamento che l'uomo teneva all'interno dell'abitazione. Oggi il giudice, in attesa dell'udienza di dibattimento, ha convalidato l'arresto. Ennesimo quasi quotidiano incidente in via della Marina a Fano. Inizia così la segnalazione inviata ieri sera alla nostra redazione da parte di un residente che da anni, anche tramite Fano.tv chiede provvedimenti all'amministrazione comunale. I motorini impazzano senza regole, ha ribadito, servirebbe un autovelox dei dossi o un semaforo, ma non sono mai stato ascoltato. Ora torniamo a parlare della Fano Grosseto e dell'adeguamento della Galleria della Guinza, perché oggi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara per l'esecuzione dei lavori. L'aspettavamo da 40 anni, ha commentato l'onorevole Milko Carloni, è un altro importante obiettivo centrato dal Governo e in primis dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini, che va nella direzione del potenziamento e del ammodernamento della nostra rete infrastrutturale. Dopotanto, ha proseguito Carloni, abbiamo tempi certi nella realizzazione di un'opera viaria fondamentale nel collegare le Marche Nord con l'Umbria Nord e la provincia di Arezzo. Questo bando, ha concluso l'onorevole, rappresenta un pezzo importante nella sfida per rendere i nostri territori più appetibili dal punto di vista degli investimenti economici e per la mobilità. Ora andiamo a Pesaro, nel quartiere di Pantano. C'è il pericolo amianto per una serie di capannoni abbandonati e in stato di degrado. Vediamo. Nel quartiere di Pantano a Pesaro, in particolare tra Via Costa e Via Solferino, è presente una struttura da anni in dissuso e attualmente in stato di degrado. Dei capannoni, come dimostrano le nostre immagini, abbandonati e con coperture in amianto che stanno lentamente crollando dopo le intemperie dei mesi scorsi. I tetti in eternite naturalmente vanno bonificati. C'è una legge, dal numero 257 del 1992, che dichiara pericoloso l'amianto. L'eternite è fatto anche di questo materiale che è pericolosissimo. Naturalmente la pericolosità viene dal degrado, quindi con le intemperie e con tutto possono mettersi nell'aria delle polveri, delle fibre pericolose per aerodispersione. Questa cosa può portare delle neoplasie, quindi problematiche respiratorie. Il privato o comunque l'ente pubblico è obbligato a darne segnalazione della situazione del suo stabile per poi fare una mappatura. Io ho fatto una domanda per sapere se il comune ha conoscenza di questa cosa come credo che lo sia, però io ancora non ho avuto nessuna risposta, quindi poco tempo fa ho fatto un posto un po' così provocatorio dove ho chiesto se l'assessore era a conoscenza di questa situazione. La struttura si trova a pochi passi da uno dei centri commerciali più frequentati della città di Pesaro. Questa è una zona dimenticata ma a pochi passi dal centro abitato? Sì, è a pochi passi dal centro abitato, ma più che altro è proprio vicino a un parcheggio di un supermercato, l'Ipercop, e quindi questo porta ad avere vicino tantissime persone che passano e che sostano, quindi questa è ancora desta maggior preoccupazione. Dall'esterno dei capannoni è possibile osservare i segni più pericolosi del degrado. In questa zona c'è un vetro rotto e se si intravede il tetto sopra è in ethernet e si nota benissimo che il tetto è comunque trasparente, quasi trasparente, perché si vede la luce del sole. Questo naturalmente denota l'alto degrado che c'è in questo stabile. Questo tetto ha comunque delle dispersioni che possono essere, nel caso di tirate di vento o comunque tempeste, volare nell'aria. Essendoci qui un parcheggio, essendoci qui un supermercato ed essendo un centro abitato, il quartiere, questa cosa non è che sia un granché. Non c'è solo il rischio amianto a preoccupare i residenti della zona. Quest'area, nelle ore notturne, diventa punto di ritrovo per persone dedicate al bivacco e non solo. Questa è la, potete vedere, la situazione che c'è in questa zona qua. Io mi sono premurato già da tempo a chiedere in consiglio di quartiere la situazione. In un primo tempo era stata presentata una domanda al consiglio di chiedere al comune perché ho le motivo qui vicino c'erano dei bivacchi eccetera. Questa cosa è stata messa a norma, anche se in una maniera così un po' rustica, non fatta molto bene, però comunque era il risultato. Ma attualmente ancora persistono queste cose nonostante ci sia una recensione. La recensione è stata scavalcata. Rimaniamo a Pesaro dove, grazie all'immediata denuncia fatta agli operatori della squadra volante della Questura, si è riusciti ad intervenire subito dopo la commissione di un furto di una collana ai danni di un signore. La vittima si trovava in Viale Trieste quando una donna si è avvicinata e dopo qualche convenevole lo ha abbracciato mentre con la mano gli ha sfilato la collana. Poi con una scusa si è allontanata raggiungendo un'altra donna che per tutto il tempo è rimasta nelle vicinanze. L'uomo qualche istante dopo si è accorto della sparizione del monile e vedendo una pattuglia della Polizia di Stato nei paraggi ha chiesto subito il loro intervento. Gli operatori sono riusciti ad individuare le due donne che alla loro vista hanno lasciato cadere la collana appena rubata. Accompagnate in Questura sono state identificate. L'esecutrice materiale è una 27enne rumena con diversi precedenti per furti commessi in varie città italiane. L'altra è una 22enne della stessa nazionalità entrambe senza fissa dimora. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'esecutrice del furto. Invece non ritenendo sufficienti gli elementi a carico della 22enne non è stato convalidato l'arresto. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato con 21 voti favorevoli il nuovo piano sociosanitario 2023-2025. All'ultima parte della discussione in aula e alla votazione non hanno partecipato per protesta i gruppi del PD e del Movimento 5 Stelle secondo cui il piano è irricevibile, sbagliato e non emendabile. La società civile si legge in una nota congiunta ormai stanca e provata dalla fallimentare gestione della sanità da parte della Giunta Acquaroli che in tre anni ha portato a una drastica diminuzione dei servizi, al taglio delle risorse, all'aumento della mobilità passiva e a un allungamento delle liste d'attesa che obbliga sempre più persone a curarsi nelle strutture private. Ci hanno lasciato una sanità allo sbando, hanno replicato i leghisti, un'organizzazione inefficiente ed inefficace, una mobilità passiva in aumento, liste di attesa infinite, pochi progetti di edilizia. Passo dopo passo con responsabilità e decisione la maggioranza la sta cambiando nel rispetto di quanto contenuto nel programma elettorale sul quale i cittadini marchigiani ci hanno dato fiducia. 38 anni al lavoro per il commercio Marche Nord. Nei giorni scorsi il direttore Amerigo Varotti è stato nominato commendatore al merito della Repubblica Italiana e lo stesso Varotti ha commentato ai nostri microfoni il riconoscimento ricevuto. Commendatore al merito della Repubblica, cosa significa per lei questo riconoscimento? Beh, una grande soddisfazione. Considero che in Italia dal 1795 sono stati riconosciuti commendatore poco meno di 45.000 persone, cioè dal 1795, quindi in 230 anni è poco, considerando i 60 milioni di abitanti che ha l'Italia. No, è una soddisfazione, è il riconoscimento di un percorso di lavoro, ma anche di impegno sociale, perché al di là della Confcommercio, che comunque ho sposato tantissimi anni fa e tante iniziative fatte. C'è anche un percorso di attività nel sociale, nel mondo della cultura, ma anche della politica che ho fatto. Quindi un riconoscimento della serietà con cui un cittadino ha operato nella società. Quindi è grande soddisfazione, se penso che poi anche chi ha firmato l'onorificenza. Nel 2008 il Cavaliere della Repubblica, la firma era di Berlusconi e di Napolitano, il Presidente Napolitano. Nel 2013 ufficiale al merito della Repubblica era Enrico Letta e il Presidente Napolitano. Adesso Giorgia Meloni e il Presidente Mattarella. Quindi anche questo mi dà soddisfazione. Poi una situazione personale, familiare. Anche mio padre, che è morto ormai da tanti anni, negli ultimi anni aveva avuto il riconoscimento di commendatore e di colonnello a riposo dell'esercito. Quindi insomma una soddisfazione anche personale di aver raggiunto anche mio padre. È stato prorogato al prossimo 31 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle domande di ristori dei danni subiti da privati e imprese a seguito dell'alluvione del 15 settembre scorso. La relativa ordinanza della protezione civile nazionale è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale. La richiesta di proroga rispetto al precedente termine di domani 10 agosto era stata avanzata dalla Regione Marche per permettere a famiglie e imprese di poter presentare le stanze per la ricognizione dei danni e la quantificazione dei contributi. I cento anni della musica arabita saranno festeggiati con due giornate di musica e di comicità che si svolgeranno il 18 e il 19 agosto in Sassonia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala della Concordia della Residenza Municipale. Sentiamo. Il Carnevale di Fano, pur non organizzando la sfilata estiva dei carri, non salta all'appuntamento d'agosto. Per due giornate, il 18 e il 19 agosto, infatti sarà presente sul lungomare di Sassonia per festeggiare un anniversario molto importante, quello dei cent'anni della musica arabita. L'evento dal nome Un secolo di note colorate vedrà la presenza del San Costanzo Show e del caro allegorico Pop Art. Ci sarà quindi tanta musica e tanta vivacità grazie all'esibizione della storica banda e le performance di diversi DJ, grazie anche alla collaborazione delle associazioni Umanesimo Artificiale, Carnage Collective e House Off. Il giorno 18, dalle ore 21, ci sarà questo evento per il centenario della Carnevalesca, quindi ci sarà un palco dedicato alle persone che suoneranno all'interno della musica arabita. Il 18 faremo una nostra serata tipica con i nostri DJ, il DJ che abbiamo chiamato è un ragazzo argentino che però abita a Milano e successivamente ci sarà il nostro DJ fanese Diego Bato e faremo una solita nostra serata con il nostro pubblico di giovani e giovanisti, per appunto riavvicinarli a quelle che sono le tematiche di Porto Futuro, dell'ente Carnevalesca e degli eventi cittadini a cui teniamo, vogliamo portare un ringiovanimento in tal senso. La giornata del 19 agosto sarà organizzata in tal maniera, ci sarà un carro dell'ente Carnevalesca, il carro Pop Art, dei DJ fanesi della mia associazione e anche dei DJ di Senigallia e saremo affiancati a dei DJ bolognesi. L'evento sarà totalmente gratuito e si svilupperà di fronte ai murales nella zona Porto di Fano e inizierà alle ore 18 e terminerà in tarda notte. Due giorni di grande festa ma la particolarità è che il 19 i tesserati dell'ente Carnevalesca avranno un privetuto speciale, potranno salire sul carro della Musica Arabita per godersi la serata. Ricordo anche che invece il 17 ci sarà una visita guidata ai cantieri del Carnevale quindi con il Voulon che racconterà insieme ad una guida la storia e ci farà vedere i carri da dentro. Quindi ci vediamo per il weekend di Ferragosto. Procediamo con gli eventi, domani sera torna la passeggiata degustativa in Girperfan, per l'occasione rimarranno aperti i musei e i monumenti della città con la possibilità di visitare anche il Chiostro di Sant'Agostino. Sentiamo le interviste curate da Simona Zonghetti. Assessore, la manifestazione in Girperfan domani darà l'occasione ai visitatori anche di ammirare le bellezze della nostra città. Esatto, noi abbiamo sempre aperto magari luoghi della cultura però erano rimasti a sfondo invece quest'anno grazie alla collaborazione con la Proloco che a giugno ci ha cercato e siamo molto contenti abbiamo deciso di creare proprio un percorso dedicato che si chiamerà Cibo per l'anima. Questo percorso dedicato vede una serie di tappe e quindi oltre a godere di quelle che sono le eccellenze enogastronomiche della città si potrà godere della città di Fano a pieno anche grazie a questo percorso. Quindi avremo la chiesa di San Francesco che apre i suoi portoni e sarà possibile affacciarsi e vedere, poi nella saletta Nolfi a fianco ci sarà un video che racconta le bellezze di questo luogo meraviglioso. La chiesa di San Pietro, la chiesa di San Francesco invece avrà all'interno dei musicisti che sono dei ragazzi che studiano il conservatorio e che quindi creeranno un'atmosfera magica. Poi il museo del Palazzo Malattestiano avrà un laboratorio in cui i bambini potranno divertirsi a creare il loro museo. Visite guidate assieme a Manuela Palmucci e infine questo meraviglioso chiostro che sarà per la prima volta aperto in una visita dedicata a cura dell'archeoclub. Le visite saranno gratuite? Sì sicuramente saranno gratuite e ci saranno diciamo dei piccoli ciceroni ovvero sia studenti di scuola superiore e anche universitari che avranno proprio questo compito di guidare lungo questo percorso di conoscenza e non solo della storia del chiostro che diventa poi anche conoscenza della città di Fano ma anche del nome di questo di questo ex convento cioè la figura straordinariamente importante di Sant'Agostino più ecco anche un piccolo agaccio a una cosa veramente molto molto importante che è l'angelo custode. Invece la prenotazione è necessaria? No diciamo noi formeremo dei gruppi sul punto di ingresso in base all'afflusso speriamo che questo afflusso sia il più uniforme possibile. Ovviamente tutti i visitatori avranno libertà di accedere a queste visite perché il percorso cibo per l'anima ovviamente è aperto a tutti. Passiamo allo sport con l'Alma Juventus Fano. Dopo il tentativo sfumato dell'ingresso in società di Benedetto Mancini oggi il mister Granata ha incontrato il sindaco Serie e poi i giornalisti per lanciare un appello alla città. 117 anni di storia ha detto Scorsini sono a rischio. Sentiamo l'intervista realizzata da Stefania Schiaroli. Innanzitutto per me è stato un onore entrare nella casa del primo cittadino. Lo ringrazio di cuore che mi ha subito accolto e soprattutto ha ascoltato i miei grandi dubbi, le mie perplessità e soprattutto io penso che in un momento delicato come sta vivendo in questo momento la mia società il primo cittadino potrebbe aiutarci a risolvere questo momento di grande impasse. Il Fano calcio è molto importante per Fano, i tifosi fanesi sono preoccupati, diciamo appunto ai tifosi per quale motivo avete dovuto interrompere l'allenamento a frontone? Qual è la vera situazione del Fano calcio? Che cosa succederà? Innanzitutto se sono preoccupati i miei tifosi è perché è preoccupato il sottoscritto. Io li ringrazio pubblicamente dell'amore, del sostegno, della vicinanza che mi stanno dando tutti i giorni. Domenica sono saliti a frontone una rappresentanza della curva e ripeto se io sono tornato ad allenare prima ho fatto il calciatore qua, se sono tornato a Fano è perché adoro questa città, adoro i miei tifosi, adoro questa società che ha 117 anni di storia però penso che in questo momento 117 anni di storia sono a grande rischio. Leggiamo che ci sono delle situazioni abbastanza drammatiche dal punto di vista societario, che cosa possiamo immaginare che succederà? Io non mi piace entrare nel merito di cose che non mi competono, è chiaro che sono troppi giorni che leggo solo di rogiti, che leggo solo di compromessi, che si parla solo di passaggio ma a me e alla squadra chi ci pensa. Noi mancano 20 giorni all'inizio del campionato, ho un gruppo di ragazzi giovani, under, bravi, splendidi ma non è una squadra, non possiamo affrontare un campionato di serie D duro, complicato e soprattutto con questa casacca gloriosa con solo under, rischiamo di fare un naufragio. Quindi quello che è il mio obiettivo oggi è cercare di sensibilizzare ancora di più tutte le persone, tutti gli imprenditori fanesi, tutte le persone che sta a cuore questa società, perché io penso che, ripeto, 117 anni di storia vanno onorati e non umiliati. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento dedicato al Paese dei Balocchi, che torna dal 17 al 20 agosto a Bellocchi di Fano. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di strada Baifano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.